Buon pomeriggio a tutti amici di YouTube, tifosi rossoneri e rivali. Ci siamo, si avvicina la grande sfida, Bologna-Milan. Il Milan dovrebbe giocare con un 4-3-3, in porta Magic e Magnan, Ternandez, Chav, Tomori e Calabria. I tre al centrocampo, Krunic, Reinders e Loftus-Cech. Davanti Giroud con Leao e Pulisic. Sembra essere questo l'undici titolare da parte di Stefano Pioli. Dai ragazzi, oggi è importante tenere il passo di Inter, Juve e Napoli che hanno tutte e tre vinto. Mi aspetto di vedere una grande prova. Ragazzi, soprattutto in difesa, mi raccomando, massima concentrazione. Testa, cuore e palle, attaccati agli attaccanti. Non dobbiamo farli girare, non dobbiamo farli respirare. Al centrocampo voglio una grande diga, una grande voglia. Subito recuperare palloni, aggredire. Subito lanciare Pulisic e Leao. In modo che sfruttano le corsie per poi o entrare e fare rete o metterle in mezzo al grande nostro, Oliviero, campione vero. Non ci dimentichiamo che in panchina sono anche pronti i grandissimi Ciucuezze, Adli, Romero. E attenzione ad Origi ragazzi, attenzione ad Origi perché anche lui secondo me era il primo anno. Magari quest'anno si sveglia, se poi non va via. Mi auguro che anche lui contribuisca. Forza raga, vi voglio cazzuti. Dai Pioli, mi raccomando Pioli. Fai tirar fuori i coglioni, tienili per le palle e facci andare a fare i tre punti che sono fondamentali ragazzi. Ci vediamo poi stasera, caldi come il fuoco, carichi a bestia, forza vecchio cuore rosso nero e andiamo a prenderci i tre punti.